Ricordiamo allora, attenzione, notizia importante. Notizia importantissima. Non vedo la stanza del motel. No così si incontroluce. Allora notizia notizia veramente sibaritica perché a breve avrete il giorno dato della partenza. Però andiamo in vacanza insieme verso fine febbraio, ma non è che mi porta lui in vacanza e figuratevi. Ma che ti porta? Ci porta ixtime.tv, ci porta ixtime.tv in una meta molto... No beh ricordiamo ixtime.tv è un sito web molto importante pieno di opere d'arte mobili e anche delle nostre avventure e di avventure. Perché andremo diciamo anche a Budapest, Ungheria. Esatto, in una meta lussuriosa. Una meta sessualoide al massimo, l'avevo capite. Dove faremo video fetish, vero tesoro? No, dove faremo video a porno e dove anche la diva la vedrete a fare finalmente i suoi film porno con me. Certo, certo tesoro. Avete stretto i coglioni. Quindi niente, oggi vediamo questa notizia in anteprima. A fine febbraio andiamo a Budapest e ringraziamo ixtime.tv per mandarci a Budapest. Penso che lui non mi porta, ci pensano loro. Beh complimenti a ixtime.tv per questa scelta, ma soprattutto anche per come documenta imprese estetiche, sessuali, artistiche, dirompenti. E poi soprattutto sapete che non ci sono limiti. e adesso la diva del tubo sarà messa alla prova anche. Certo, infatti. Anche tu tesoro. Devi... Ma io sono sempre alla prova. Ciao, complimenti a ixtime. Ciao. Ciao.